Buongiorno, mi chiamo Walter Bambina, sono l'accountizer in Italia di Estron. Durante l'ISI abbiamo presentato una serie di prodotti, tra cui abbiamo individuato ad esempio questo sistema. Molto spesso le dimensioni del rack sono suddimensionate a quelle che sono le realtà della stanza. I prodotti sono sempre più miniaturizzati e quindi abbiamo pensato di creare una nuova soluzione a mezzo rack per contenere i prodotti ed essere applicati in applicazioni militari o altro genere dove lo spazio è importante. Un altro prodotto su cui abbiamo centralizzato molto lo stand è il nuovo sistema di matrice XT Crosspoint. Parliamo di sistema perché in realtà abbiamo condensato varie apparecchiature in cui abbiamo una matrice configurabile fino a 32x32 con schede di ingresso analogiche e digitali con la possibilità del collegamento di categoria 5 attraverso vari tipi di trasmettitori e avverso i tipi di ricevitore possiamo gestire un impianto di grande dimensione. Sono disponibili sia a livello di wallplate che a livello di installazione a rack e in tutto il sistema integra tutto attraverso il trasferimento del segnale e tutte le informazioni con il categoria 5. Il categoria 5 trasferisce non soltanto il digital video, l'audio e i controlli RS232 o IR ma anche Ethernet R.1. Quindi ecco perché chiamiamo la soluzione.